Ma si potrà ancora viaggiare? Ma il nostro lavoro potrà continuare? Ma le persone avranno voglia di vacanza? A queste domande la nostra risposta dall'inizio è sempre stata una. Sì, sì perché il viaggio è uno stato mentale appagante, è un rifugio o una valvola di sfogo, è la forma di realtà che si avvicina di più al sogno e c'è sempre bisogno e voglia di sognare. Quindi se durante questo periodo il nostro compito è stato quello di aiutarvi a non smettere di sognare, da oggi ricominciamo ad aiutarvi a trasformare quei sogni in realtà. Raduniamo la grande famiglia Criluma, riapriamo la nostra agenzia, ricominciamo a far squillare telefoni in tutta Italia e nel mondo e a prenotare per voi gli angoli più belli da visitare. Non abbiamo smesso di sognare e ora vogliamo viaggiare.